Gormiti! In questo caso, credo che sia davvero... ...ora di andare a casa. Adesso potete ripartire a testa alta. Avete dimostrato il vostro valore più e più volte. Aprirò il portale per il vostro ritorno. Fondere il cuore è stato più faticoso di quanto pensassi io! Forse posso aiutarti. La tua padronanza dell'energia alfa è sorprendente. Mi viene così naturale. Non so come riesco a farlo. Guarda, Igor! Guarda! Non è possibile. Eppure, temo che in realtà il custode possa essere un... Ragazzi, sul serio? È successo qualcosa a Iridium? Iridium? E questo che significa? Da quando Iridium ha iniziato a utilizzare l'energia degli Eclipsion? Infatti non è Iridium che sta usando l'energia degli Eclipsion. In realtà, sta cercando di impedirmi di usarla! Ehi, che cos'era? Ma nessuno sarà in grado di fermarmi. Né tu, Sol, né tantomeno uno dei tuoi miserabili guerrieri. Eclos! Fattimo! Finalmente! Sei mio! Disonorevole imbroglione, il cuore del titano deve rimanere qui, nel tempio! Hai infranto ancora una volta il nostro patto! Hai ragione! Ma dovresti sapere quanto io amo il caos! E dimmi, cosa c'è di più caotico che promettere una cosa e fare l'esatto contrario? Restituisci il cuore, Verme! I tuoi piccoli guardiani pensano di valere qualcosa, non è vero? Poveri marmocchi! Pensavate di aver portato a termine il vostro bel lavoretto e adesso siete tristi perché qualcuno ha portato via le vostre adorate pietre luccicanti! Il cuore del titano non ha accumulato tutta l'energia! Ha bisogno di più tempo! Ce lo riprenderemo prima che tu possa usarlo! Ma prima dovrete prendermi! Eclos! Quel maledetto Eclipsion la pagherà cara per questo! Quindi non torniamo subito a casa, vero? No! La nostra avventura continua! Presto, seguiamoli! Immagino che lo Sloku aspetterà!